buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo estivo appuntamento con la sfida di plastic ma questa è la sfida di academy romanzio choi bonger che prendiamo con questo colore chi saranno gli sfidanti molto allergenici e coraggiosi che si prodizzeranno insieme al team di choi maishiranui e chun hei chun hei e chi sono invece i gaglioffi non quelli di injustice il primo è la prima è king gang hei e angel che bel team che bel team chi non vorrebbe farsi pigliare schiaffi dal deretano di angel comunque choi mai e chun hei e dopo angel e dopo king la maggiordoma dato che si sta parlando di maggiordome mi sembra più che giusto andare al vecchio vecchio castello di splendid soldier quando vuoi essere grosso gang il che se dovesse sicuro un me lo ricordo come personaggio diciamo che non me lo ricordo mai non mi sembra di averlo mai visto magari forse diciamo è una new entry per quanto riguarda o il tredicesimo o il dodicesimo capitolo perché ripeto uno l'ho mai visto non è mai venuto a casa mia a mangiare meno io invitato a cena non l'ho mai invitato e questo è lo vecchio castello dove succedono queste cose venga qua mio bel cioccolatino bello abbronzato con questo con le come si chiamano i pantaloni da da cavallerizza sexy sadomaso bdsm proprio robe belle potenti e si vede tantissimo che io il personaggio choi l'ho utilizzato tantissimo soprattutto perché quando utilizzavo il team corea nei vecchi king of fight diciamo che non arrivavo mai ad usare choi e se arrivavo ad usare choi diciamo che gli altri mi facevano le chiappe perché non ero buono ero più un tipo da chang ma si muovono quelli là stanno fermi ah ok si muovono no gagliaffa volevo fare un altro perfect game invece te non me lo puoi far fare brutta schivosa che porta le robe dato che c'è una maggiordoma no king anzi choi qua sarebbe anche diciamo nel suo posto migliore perché essendo parente di eduardo mani di forbici ora se si mette qua diciamo che dà un po' una rasentata alle varie aiuole e che male al vari aiuole e ai vari cosi di fiori con le signorine la in fondo che chiacchierano prima di andare a cavallo e che male questa l'hai rubata quello di te che ne lo so cosa questo invece te lo rubato a te che noia chiedo subito umimente scuola se ci saranno qualche interferenza in questo episodio e ci vediamo alla prossima con un nuovo video